Il colpo c'è stato, non definitivo, ma comunque è stato ben assestato. L'operazione di ieri ha disarticolato un gruppo di criminali e anche un modus operandi particolarmente pericoloso con gli inquirenti che per la prima volta hanno contestato il reato di associazione mafiosa. Insomma, se da un lato c'è stato un cambio di passo nella comprensione delle dinamiche della criminalità che opera in città, al tempo stesso si registra il salto di qualità organizzativo che si identifica come una sorta di antistato in grado di controllare territorio e terrorizzare i cittadini. Oggi torniamo sul tema ma da un altro punto di vista. I collegamenti con la vita sociale, con la vivibilità del quartiere Rancitelli e delle palazzine del ferro di cavallo. A proposito, lunedì aprirà il cantiere per la sua demolizione. Il sindaco, Carlo Masci. Più sollevato o preoccupato dopo questa operazione? Molto più sollevato perché evidentemente c'è un sistema di equilibrio tra le istituzioni nella nostra città che permette oggi di intervenire in vari campi, quello legato alle forze dell'ordine ma anche quello riferito al sociale perché oggi nelle zone periferiche ci sono interventi e ci sono attenzioni che in passato non c'erano mai state. Lunedì partirà il cantiere del ferro di cavallo? Sì, credo che sia un'altra grande vittoria di questa città perché il ferro di cavallo è citato anche nel provvedimento del GIP in cui si mette in evidenza che il ferro di cavallo era un fortino della malavita organizzata dalla nostra città. Questo fortino noi lo abbiamo smantellato e oggi quella struttura è totalmente vuota. Criminalità che però ha la capacità e la forza di riorganizzarsi anche magari a poche centinaia di metri dal ferro di cavallo? Sì e questo è un problema ma mi sembra che le forze dell'ordine questo problema lo stanno risolvendo brillantemente anche perché dico che nel momento in cui sei dentro un fortino ti senti protetto ma quando devi uscire dal fortino sei molto più vulnerabile. Da un sindaco sollevato ad un preoccupato consigliere regionale Domenico Pettinari che da anni fa denunce e auspica maggiori controlli di quel territorio. Sicuramente preoccupato, molto più preoccupato ma non mi sorprendo per niente. È una cosa che diciamo immaginavo da tempo. Io sto lì, ho fatto operazioni anche veramente di verifica e controllo del territorio ma la cosa ancora più grave è che vado dicendo da tempo che la piazza di spazio, la centrale di spazio, la base operativa dal vecchio ferro di cavallo che stanno adesso per abbattere, io sono contrario all'abbattimento proprio per questo si sta spostando in un nuovo ferro di cavallo a solo 200 metri di distanza. Dove? Si può dire? Ma io ho detto, ho annunciato che tra 20 giorni, massimo un mesetto, farò la prima conferenza stampa nel nuovo ferro di cavallo quello che io chiamo nuovo ferro di cavallo, lo chiamo io nuovo ferro di cavallo e a 200 metri di distanza in una via parallela a Via Lago di Capestrano diceva un grande magistrato parlatene sempre, parlatene alla radio, alla televisione, l'importante è che ne parlate quindi quando io accendo continuamente i fari grazie a voi i riflettori poi producono gli effetti quindi una parte essenziale di queste battaglie vengono vinde perché ci siete voi perché voi accendete, limitate la possibilità di accendere i riflettori un ringraziamento particolare naturalmente alla magistratura, alle forze dell'ordine che hanno fatto tanto, è questo un ringraziamento particolare